Ciao a tutti ragazzi, volevo dirvi di seguirmi anche su Twitch, perché adesso alcune live le farò solo su Twitch, magari quelle serali anche di Fortnite, quindi mi cercate su Twitch, il nome è sempre lo stesso, se non avete, se qualcuno di voi non ha Twitch, è gratis, sul telefono lo installate e vi fate l'account, è abbastanza semplice, penso che ce la possiate fare, no? E quindi ci vediamo anche di là, ok? Ciao a tutti!